Abbiamo importato una immagine La spostiamo sul livello di sfondo che poi blocchiamo Zoom a schermo per lavorare più comodamente Strumento penna. Cominciamo a disegnare la prima foglia. Vi ricordo che per incurvare un segmento selezionato, basta trascinarlo mentre si tengono premuti CTRL e ALT Gli stessi tasti servono per estrarre una maniglia da un punto selezionato Mentre si trascina con lo strumento penna, si può tenere premuto ALT per muovere individualmente la maniglia in uscita, oppure CTRL per spostare il punto senza interrompere il tracciamento Disegniamo la seconda foglia Preciso che CTRL serve soprattutto per usare temporaneamente lo strumento puntatore senza dover andare a cliccarlo Tracciamo i due cerchi Non dimentichiamo di salvare il file, ogni tanto Selezioniamo i due cerchi Selezioniamo i due cerchi e poi, unisci, per ottenere un tracciato composito Selezioniamo le due foglie Cloniamo e espandiamo il tratto fino a ottenere una forma da usare per ritagliare il tracciato composito creato poco fa Selezioniamo ambedue e poi clic sul pulsante ritaglio interno Disegniamo adesso la forma a mezzaluna per l'ultimo ritaglio Usiamo la solita combinazione di tasti per incurvare a piacimento i lati del triangolo Anche qui, selezioniamo ambedue i tracciati E poi clic su ritaglio interno Analizziamo adesso il contenuto della forma azzurra E, una griglia di quadrati, più grandi a sinistra e progressivamente più piccoli a destra Ne disegniamo uno Poi trasciniamo tenendo premuti insieme i tasti control per avere il puntatore Alt per duplicare, e shift per mantenere allineato Zoom sul quadratino e ridimensioniamo più o meno come quello da ricalcare Control per il puntatore, alt per ridimensionare dal centro, shift per mantenere la forma quadrata Zoom out Poi selezioniamo anche il primo quadrato e creiamo una fusione tra i due Impostiamo otto passaggi Spostiamo la fusione all'inizio della griglia Poi trasciniamo con alt per duplicare, e shift per mantenere allineato lo spostamento Dopo il primo duplicato, basta usare control alt d, per le copie successive Spostiamo verticalmente l'ultima copia Poi apriamo la finestra di allineamento, selezioniamo tutte le fusioni e selezioniamo Il comando, distribuisci i centri, in verticale, quindi clic su, applica Senza deselezionare, spostiamo le fusioni con alt per duplicare Sistemiamo la copia sfasata per completare la griglia Zoom out Selezioniamo tutte le fusioni Deselezioniamo i due tracciati che non ci interessano Separiamo due volte per ottenere singoli tracciati E assegniamo riempimento bianco, nessuna linea Tagliamo Selezioniamo il tracciato a mezzaluna e incolliamo contenuti In tal modo la griglia resterà all'interno della mezzaluna Aggiungiamo verde e ciano all'elenco dei colori Assegniamoli ai tre tracciati Nessuna linea E il disegno è finito Sblocchiamo il livello di sfondo ed eliminiamo l'immagine ricalcata